Amici del Calcio Magazine e del vero milanista, bentornati! Un mese esatto, la data è stata fissata. Il 31 luglio sarà una giornata storica per il Milan, i suoi tifosi e la famiglia Berlusconi. Il 31 luglio verranno poste le firme sul contratto relativo alle quote del Milan, firme che legheranno Fininvest a Mr. Beat e Achebol. Negli ultimi settimane erano uscite alcune voci poco rassicuranti circa la possibilità della riuscita dell'accordo. Ora, invece, la certezza è che l'affare si farà ufficialmente. Le pratiche relative alla cessione del 48% del Milan stanno proseguendo a passo spedito. Il tutto dovrà essere pronto per il 31 luglio. Alessio Romagnole piace come al Milan. Il difensore centrale della Roma, rientrato dal prestito alla Sampdorie, è finito nel mirino di Mihailovic. L'ex tecnico dei blucerchiati, dopo averlo avuto con sé per una stagione, vorrebbe riaverlo con sé questa volta al Milan. Nelle ultime ore ci sono stati dei contrasti non di poco conto tra Romagnoli e la Roma, per un permesso di 2-3 giorni non accordato. Il Milan si è inserito una volta venuto a conoscenza dei dissidi tra club e giocatore. Ma la Roma ha sparato veramente alto, 30 milioni di euro. Cifra che il Milan non è ovviamente disposto a spendere, ma Mihailovic preme e non è detto che nelle prossime ore ci possa essere un ulteriore affondo. Sto vivendo una grandissima emozione. Qua c'è tutto per poter far bene. Queste le prime parole da Rosso Nero per Andrea Bertolacci. La Roma pensavo al meglio per me e il Milan è meglio. Decide l'allenatore qual è il ruolo migliore per me. Io devo dare il massimo. La nazionale, ha concluso Bertolacci, è un obiettivo importante. Bertolacci è un grande giocatore, ha commentato l'amministratore delegato del Milan Adriano Gagliani. Lo seguivamo da molto tempo. Sarà l'unico centrocampista? E chi lo può dire? Non si sa. Carlo Sbacca, colpo di mercato del Milan, si trova in Colombia dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Per l'ufficialità del passaggio in Rosso Nero dell'ormai ex bomber del Siviglia manca solo la firma del 28enne che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. È infatti tutto pronto da parte della dirigenza rossonera per volare in Colombia e far rapporre a Bacca la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Milan. Anche per oggi è tutto. Rimandete sempre aggiornati sui temi di attualità di casa Milan collegandovi sulle pagine del Calcio Magazine e Il vero milanista. Appuntamento alla prossima puntata di Tutto Milan.